Buongiorno, sono Monica Strippoli di Remax Stella Polare. Oggi siamo su via Mendola per mostrarvi l'ultimo piano di un palazzo di nuova realizzazione. Eccoci nell'appartamento della famiglia moderna, che cerca spazi ben squadrati e luminosi, così come la cucina con le sue soluzioni d'arredo diventa parte integrante dell'abitazione. La zona notte, con due camere da letto, la padronale con spogliatoio e bagno in camera. Si affianca la camera dei bambini. I rivestimenti interni e esterni rendono questa casa estremamente elegante. La caratteristica di questo bellissimo immobile è senz'altro il fatto di essere circondata interamente da un balcone terrazzato. La vista mare non dispiace mai. Potrai scegliere se alloggiare la lavanderia nel disimpegno della zona notte piuttosto che sul balcone. Gli infissi interni, sobri e tutti scrigno, si sposano perfettamente con gli infissi esterni, ovviamente a doppio taglio termico e scorrevoli. L'appartamento che abbiamo appena visionato, oltre a essere unico per la scelta dei materiali, è soprattutto l'unico rimasto. Di conseguenza vi invito a telefonarmi, fissare un appuntamento in ufficio e comprarlo.